Musica 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 Buongiorno aurello, quante costa il premento? Un euro costa E le precie o le? Sono gratis E mi portai un quel letto specialato Musica 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 T'assolvo Pignolo T'assolvo mi raccomando la prossima volta Ma per penitenza Ti dai 10 a me Maria e 5 Padre al nostro, vai, vai Grazie Don Dondolo Il prossimo Buongiorno Buongiorno Don Dondo Buongiorno le mani Eh, dimmi figliolo Dimmi figliolo dimmi Don Dondo, io l'ho rubato Che sento dire cosa devo fare Dove devo andare Come devo fare Ah Secondo voi Secondo voi Vai figliolo Vai figliolo ti assolvo, vai Vai Avanti Buongiorno padre Buongiorno padre Don Dondo Brava figliolo Sì sì E dimmi che peccato hai commesso Padre Padre io devo confessare una cosa Ed io sono qua per questo Ho tradito mio marito Figliolo, figliolo queste cose non si fanno Figliolo queste cose non si fanno Con macellaio Con il fruttirendolo Con il fruttirendolo Basta no? Eeeh Con il fruttirendolo Basta figliolo Io non ti posso assolvere così con due preghiere Tu per penitenza Ti farei il rosario Vai figliolo vai Vieni come state facendo il rosario Padre Buongiorno Vieni, vieni figliolo Ho commesso un peccato grave E' ancora un altro Che hai fatto questa volta? Sono diventato tifoso della Juventus Come? Come sei diventato tifoso della Juventus? Ma che sei pazzo? Ma come tu un napoletano Per amore E non ti posso assolvere così facilmente Sai che faccio? Ti faccio dire Dieci e Ave Maria E una giornata E andare a prendere tutti i filmati del Napolo Vai figliolo vai E non finire qua Se non diventi un'altra volta napoletano Mamma mia Mamma mia Don Dondolo Preparo l'altare della messa Questo è il rosetto Che hai combinato? Don Dondolo ma me l'avete mandata voi la signora? Rosario Mamma mia Quanti E' un'altra non è una Ma che è una macchina? Ci sono tutti i altri giorni Ti sei proprio strano Uè ammelo Ma che è successo? Tu non mi hai mai bisogno Mi ha mai parlato i altri giorni Come è già fatto? Non so E che sta? Buongiorno, fiammelo così, non ce ne davano più Quindi tenete la stretta stretta, sta sentendo a me Vedi c'è tu? Pronto? Pronto, cara suocera, se un bambino si fa cacca sotto, chi lo deve cambiare, la mamma o il papà? Non è sempre la mamma, cara nuora Allora venite presto, perché vostro figlio si è fatto sotto Prima cosa, era ubriaco e secondo si è cacato sotto Collega, dobbiamo fare i complimenti al professor perché è stato veramente... Un'operazione di appendicite, dottor? Da capolavoro, complimenti, professore Questa è la cartella della famiglia I doppi turni, il covid Sarà nervoso, tutti, tutti, tutti Se non era per voi l'intervento non sarete riuscito Eh, non saremo lei Prego, prego, raccontatevi Grazie La famiglia La famiglia Scoppetta? Donno, professore La sorella, come sta mio padre? Quali professore? Bene, lei e il figlio, sia tranquillo Tutto a posto, l'intervento è riuscito bene Meno male Per la prima volta Sì, anche per mio marito è stata la prima volta Cara signore, è anche per me la prima volta che opero Sì Comunque Dica alla signora come sta Ma è l'intervento Tutto quanto riuscite bene I valori sono rientrati Sì, sì Sì, sì E sveglia, è sveglia Adesso, com'è? Mi è arrivata proprio in questo momento la notizia Che è sveglio ed è vigile È vigile, dottore Sì, signor Me l'avete fatto vigile E fino a ieri era muratore Come mai hai avuto il posto comune? Ti sono piaciuti i nostri sketch? Ricordati che puoi vedere tanti altri sketch di Trick Croc e Cocò sulla pagina di Youtube Attiva la campanella per essere sempre aggiornati E ricordati che siamo su Instagram e Facebook Grazie e condividi! Grazie Grazie